Ho deciso di lanciare un concorso, la strada di Taranto, intendendo per Taranto ovviamente centro e periferie, che è stata più martoriata, distrutta dai lavori delle ditte private, delle ditte che eseguono lavori per le utenze, per l'acquedotto, per la fibra, per telecom e quant'altro. Vedere qual è la strada che è stata più dilaniata e che contemporaneamente ha subito anche il silenzio, l'inerzia dell'amministrazione Melucci che evidentemente piega la testa, le ditte distruggono il manto stradale, i marciapiedi e l'amministrazione Melucci sembra completamente disinteressarsi, sembra subire passivamente. Metterò un premio e chi mi rappresenterà, faccio proprio un concorso, mi presenterà la strada più dissestata dalle ditte, vincerà un pranzo o una cena nella mia trattoria Tarantina, per sé e per la famiglia. Sto parlando seriamente, cerchiamo di sorridere perché qui c'è davvero da piangere. Guardate, qui siamo a Talsano, quindi la prima tappa del nostro concorso ci è stata segnalata. Talsano, vedete? Corso Vittorio Emanuele. Vi sembra normale? Vi sembra normale? Qui si eseguono dei lavori della telecom. Ecco, guardate, telecom, banto stradale dilaniato, c'è una voragine, non si capisce. Guardate qui cosa succede. Immaginate una moto, immaginate le persone che camminano e cadono, qualcosa di incredibile. Anche qui, pieno corso Vittorio Emanuele. Guardate, qui è l'inizio del corso, l'arteria principale di Talsano. Guardate, non si sa più quante volte è stato aperto e richiuso, aperto e richiuso il manto stradale. Qui non ci si è degnati di mettere neanche un po' di asfalto. Il cemento, aperto e chiuso, aperto e chiuso. Guardate, parte da qui e arriva sino là in fondo. Sindaco Melucci, assessore ai lavori pubblici Mattia Giorno, ma che fate? Subite in silenzio? Non vi riguardano questi problemi? I cittadini che abitano qui pagano le tasse per avere servizi, pagano i tributi locali e hanno in cambio questa merda, perché stiamo parlando di una merda di situazioni e che nessuno si scandalizzi e si offenda delle mie espressioni volgari. È ben più grave quello che accade qui, mai vista una cosa del genere. Perciò ho detto, ora cerchiamo di, proprio è una sfida che lancio, rappresentatemi, segnalatemi le varie situazioni in cui le ditte locali distruggono il manto stradale. Perché un'amministrazione seria deve chiamare ai danni le ditte, le deve costringere legalmente a ripristinare il manto stradale secondo le misure e le proporzioni imposte dalle normative. E qualora non lo faccia, l'amministrazione lo fa a proprie spese, salvo poi rivalersi sulle ditte. Ma non è possibile che si lascia il cittadino in questa condizione. Concludo questo primo passaggio su Talzano. Ne ho fatto uno precedentemente su Via Cavour, in pieno centro, di fronte al museo. Guardate qui. Penso che questo sia lo scempio e questa sia l'immagine più brutta che rappresenta l'assoluta incapacità, il carattere subente, sottomesso, soggiacente da parte dell'amministrazione Melucci. Prego. Quello è un altro discorso. Comunque, in ogni caso, è bello sentire la gente e questa è Taranto. Vedete? Li Telecom, qui Vodafone, qui altre rotture, guardate, è ancora più avanti. Potremmo stare tutta la serata. Quindi, strade, marti stradali distrutti dalle ditte col silenzio dell'amministrazione comunale. E per concludere, qui c'era un palo della luce, poi gli scienziati hanno rifatto i marciapiedi e hanno ritenuto opportuno eliminare, sopprimere il palo della luce. Bene, gli abitanti del corso di Talzano, di Corso Vittorio Emanuele, staranno al buio. E viva l'amministrazione Melucci. Oggi abbiamo fatto tappa a Talzano, Corso Vittorio Emanuele. Grazie a tutti.